House, che cosa c'è? Non un cosa, un chi. Hanno anche il diritto di voto adesso. Rodney Foreman, Caddy. Caddy, Rodney Foreman. Lieto di conoscerla. È il padre di Foreman. Sì, l'avevo intuito. La dottoressa Caddy è colei che comanda. Rammenti la storia dell'autopsia, quella che salverebbe la vita di tuo figlio. È lei quella che può darci via libera. So soltanto che lei non vuole dare l'autorizzazione. E il dottor House non ne capisce il motivo. Signor Foreman, cerco in tutti i modi di accelerare le cose. Non si direbbe... Ma ho deciso di attenermi ai protocolli di sicurezza sanitaria. Non prendertela con la legge. Non c'entrano niente regole e protocolli. Mi rendo conto che è in gioco la vita di suo figlio. Così come mi rendo conto che la mia decisione risulta sconvolgente per familiari ed amici, senza bisogno che vengano di persona. Suo figlio ha un'infezione. sconosciuta, contagiosa e letale. Se non la circoscriviamo, molte altre persone saranno in pericolo. Ed è mio preciso dovere tutelare anche loro, senza bisogno che vengano di persona. Mi rendo conto. Grazie. 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 Grazie.